Questo penso che sia un giorno importantissimo perché mi onora tantissimo sicuramente essere già qui. Evidentemente c'è stata da subito un'intesa bella, mi è piaciuta perché ho capito che al di là della categoria, che questa per me è una novità e quindi come ho scritto e detto tante volte, chiaramente c'è un percorso, arrivi in una categoria che questa qua, dice bene il Presidente, è una categoria nazionale, quindi direttanti, pertanto noi la vedevamo tempo addietro sull'iSport, oggi siamo qui protagonisti e quindi già soltanto questo penso che sia un arrivo. Non posso dire altro che oggi riparto da zero, ma zero non è perché quest'anno mi sembra che il principio fondamentale di questa società è l'ennesima impresa, che è un'impresa importantissima, appunto quella di mantenere la categoria, infatti sono qui appunto a legge da vedere già la campagna appunto abbonamenti fondamentale per questa categoria. C'è proprio uno slogan importantissimo che è difendiamola, significa chiaramente che tutti insieme dobbiamo lottare per raggiungere intanto questo traguardo, nonché l'aspetto anche sociale e attraverso appunto il settore giovanile che è fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una società.